Amici 3B Meteo bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo come sempre dall'immagine del satellite che ci mostra poche nuvole sull'Italia. Qualche annuvolamento si è fatto vedere all'estremo nord-est ma si è già allontanato. Al sud è ancora presente qualche nuvola legata a un centro di bassa pressione che ormai si è spostato verso l'est Europa ma ancora un po' di vento si fa sentire al sud e si farà sentire anche nei prossimi giorni però sostanzialmente in gran parte d'Italia pressione atmosferica in aumento quindi condizioni meteo buone e così ad esempio per la giornata di martedì prevediamo ampie zone di sereno soprattutto al centro nord. Attenzione però a qualche nebbia foschia che torna a formarsi di notte a primo mattino in pianura padana. Il sud vi dicevo sente un po' di vento dai quadranti settentrionali associato a quel centro di bassa pressione quindi un pochino più di variabilità qualche nuvola di passaggio poche le conseguenze qualche pievasco questo martedì intorno allo stretto di Messina sulla Puglia garganica sull'Appennino ma fenomeni davvero isolati e come temperature valori bene o male nella norma un po' in tutta Italia ovviamente di notte a primo mattino c'è bisogno di coprirsi bene. Però attenzione seconda parte della settimana spostandoci verso il weekend con la possibilità di arrivo di correnti fredde dall'est Europa particolarmente fredde quindi temperature che potrebbero calare un po' in tutta Italia e ritorno magari anche di qualche fiocco di neve al centro sud principalmente comunque a ridosso dell'Appennino. Ma per sapere nel dettaglio se le cose andranno a finire proprio così scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.